Con il primo giugno alle porte scatterà come dato aziendale il declassamento a ospedale di aria disagiata per l'ospedale San Massimo di Penne. Nei giorni scorsi il presidente dell'associazione Salviamo l'ospedale di Penne, in una delle tante riunioni, facendo una provocazione, si è detto pronto ad incatenarsi assieme al sindaco Semproni e all'assessore Ferrante, proprio davanti al nosocomio Vestino. Una provocazione che sta prendendo in considerazione anche Gabriele Pasqualone, segretario della Fialz. Incatenarsi potrebbe essere un estremo atto di manifestare il dissenso, però noi abbiamo fatto tanti colloqui, abbiamo fatto tanti tavoli tecnici, ma che sono stati sempre disattesi, perché ciò che ci è stato detto poi in fondo non si è verificato, all'atto pratico non è stato realizzato. Incatenarci potrebbe essere simbolico, ma forse si sarebbero dovute incatenare le mani di coloro che incatenare sempre in senso simbolico, nel momento in cui stavano firmando l'atto che poi ha portato a tutta questa vicenda. I sindacati ok, però bisogna vedere se questi sindacati sono anche altalenanti nel loro pensiero e nei loro giudizi, perché ci sono alcuni sindacati, alcuni rappresentanti sindacali, che hanno sannato queste scelte, le hanno ritenute giuste. Poi di colpo c'è un'inversione di tendenza. La fiducia sembra ormai sfanire, anche se ci sarà un ultimo tentativo nei prossimi giorni, quando l'amministrazione Semproni incontrerà il manager della ASL, Mancini. Un estremo tentativo che alcuni possono definire anche puerile, perché se non ci siamo riusciti fino adesso, con tutti i nostri interventi, i nostri colloqui, anche con atti legali, perché è inutile noioso anche ricordare tutti gli atti legali che abbiamo fatto contro questo atto aziendale. Io sinceramente non mi aspetto nulla, nulla di buono, perché dopo tante promesse non è venuto ancora nulla. Non posso dire, non posso usare questo termine, sono fiduciosa, perché la fiducia non c'è, quindi dire fiduciosa no, spero che qualcuno si ravveda.